Forse hai ricevuto in baltazione 2. Uno ricevuto. Qui è il scolo bianco. Chi è tosto, eh? Tutto è giù una salla, diciamo. E io vado qua, vedi, hai buttato da dentro. Ma c'era dentro un secchio. C'è sempre? C'è sempre ricevuto. Sei grosso di nulla. Dov'è? Io ho visto la finna, là vuoi fare vedere il film dello squalo, quella di sopra una sola. Quasi è venuta voglia di fare il bagno ma rimarrà. E' la urbina, eh? Guarda. Sarà a tre metri, madonna. Eh, è un tre metri abbondanti questo qui. Non facessci gli altri toni. Avevamo paura. Io ho visto la finna di San Alberto, lì, ti vediamo. Che t'è f***a? Ma che seriglio. Allora, fai, io c'è. Allora. 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 Allora.